Ciao a tutti, amici, fiosini, come state? Spero tutto, tutto, tutto bene. Oggi andremo a fare un monza in stile pioggia autunnale, oddio, temporale autunnale, visto che ho i lampi che ci sono, quindi io vi auguro un buon relax a tutti. Ciao 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.